Ciao a tutti ragazzi qui è un barricone 6 benvenuti su Garden of Bambam sto cercando di non ridere per i disegni che ci sono lì sul muro cos'è Garden of Bambam? è intanto un free to play che per farla breve insomma noi siamo dentro questo asilo penso sia tedesco dal nome siamo dentro questo asilo dobbiamo scoprire la verità sul luogo solite cagate no e quindi alla Five Nights at Freddy tipo come impostazione non ci abbiamo da controllare le camere ma ci abbiamo comunque i personaggi che popolano questo asilo che a quanto pare ci rincorrono robe simili ci fanno dei jumpscare da quello che viene descritto perché ci viene detto più e più volte che non siamo da soli quindi new game ok per un genitore che sta cercando il proprio figlio scomparso il tempo è una cosa delicata clicca sull'orologio per andare avanti nel tempo 5 minuti alla volta bene e fin qua non si è capito un cazzo oddio c'è un po' di motion blur ok ci si muove con WASD o con le freccette e per interagire con gli oggetti con space si salta sto vedendo anche senza che ce lo dicano e con shift stiamo correndo ok con cosa posso interagire qui cos'è una carta la carta blu guarda mi sta per venire un rutto dai non volevo buttarlo per niente ho buttiamo via i cestini con una forza allora ci camminiamo addosso gli diamo di quei calci ok questo deve essere tipo senza manutenzioni chi c'è cos'è questo un drone di warzone 2 cos'è se abbiamo un telecomando come facciamo usare il ah ok ci servono due batterie per questo coso cara mamma mi sto nascondendo in una camera ma devo combattere il mostro è l'unica possibilità claire ok quindi noi combattiamo un mostro per farci per ringraziarci questa claire una ragazzina che ci piace in modo che appunto anche noi piacciamo a lei va bene logica di qua immagino si possa andare no non si può andare e vabbè che me ne faccio del remote niente jumbo josh say eat vegetables fruit ok mi raccomando ragazzi verdure frutta cos'è sta roba ah una batteria madonna che batteria sembra una roba di uranio va che roba mangiamo la frutta per diventare verde come lui qua le macchinette però non c'è un cazzo di niente la medusa invece dice ok avere più braccia mi permette di aiutare più persone left mouse button to use your toy oh porca troia me lo sono trovato in faccia stavo leggendo sopra ma l'ho mica visto ok quindi lo stiamo usando e con il mouse con il tasto destro dobbiamo mandarlo nella stanza più vicina non ho capito dobbiamo farlo passare da qualche parte no di qua forse cosa posso fare no non dobbiamo buttarlo lì vai lì ti sposti in quel punto lì deve cliccare il bottone non so eh sì deve cliccare il bottone porca troia adesso immagino di poter no non posso sicuro dovrò cliccare questo perché sono altri in giro e ma non l'ha mica l'ha cliccato non l'ha cliccato eh non è successo nulla ah no si sta aprendo porca troia eh raga sto in c'è mi sto stupendo delle mie capacità di problem solving ma cosa devo fare vai vai incontro vagli ficchialo vai vediamo se abbiamo prima il drone cosa succede ficchialo c'è paura eh del drone la fine è qui ma cosa c'è questa stanza che non posso accederci eh non posso accedere da nessuna parte c'è tipo un muro invisibile vaffanculo va se può oh che cristo che spavento roman calmo cos'è sta roba dove mi trovo ma è schifo come è fatto male sembra tutto plasticoso tutto proprio dobbiamo cliccare ancora questi non lo so dov'è il drone dai drone vieni dov'è è sparito guarda lo lì clicca su ormai in teoria va tutto così eh non è successo niente però si può andare sullo scivolo però no non possiamo andare sullo scivolo questo cos'è un uovo vediamo se possiamo arrampicarci qua no non possiamo io ho paura ball pit closed ok aspe aspe ok famissima praticamente dobbiamo dargli sei uova no cos'era sto bus e dove le trovo le altre uova scusa tutte qua dentro qua c'è un uovo ok troia cosa sono un genio solo ok siamo a tre 3 su 6, ok, a metà no, mangia saccione di merda dove possiamo trovare altre uova? una è qui oh, qua c'è una lettera ok se abbiamo degli adesivi da dare ad un amico allora, accogli per piacere ok, abbiamo il quarto uovo ci sono altri uovo sugli alberi guarda qua, dove è? porca troia è il quinto dove cazzo può essere il sesto? sopra lo scivolo? dentro? qua dietro in angolo? dove lo nasconderei io se fossi un sviluppatore? va bene, intanto diamogli queste e dopo lo cerchiamo dove cazzo è il sesto? ragazzo può essere il sesto, forca troia fosse lo scivolo? si è andati prima o no? mi pareva di averlo visto cioè ce n'era uno ma l'abbiamo già preso ecco raga, mi trovo un attimo in difficoltà adesso dove può essere l'altro uovo? sotto qua magari? no eh, non c'è sotto qui non c'è i tavoli qua sono andati nella barca l'abbiamo già trovato sopra gli alberi abbiamo detto che di no sopra i pali dell'altalena neanche i pali non si può neanche andare nell'altalena a destructive tools ok, ci serve qualcosa per spaccare le cose di legno qua sopra? niente eh, dovrei trovarlo scusa, l'altro uovo eh, find eggs eh, grazie al cazzo find eggs qua sotto? no, niente eh, ma in giro? cioè potrebbe essere anche qui? il tuo pancreas è mio ok, aspetta, aspetta eh il, il cazzo di drone qui non può rompere tipo il vetro giallo c'è scritto ma siamo sicuri che non deve appremerli eh, ma che cazzo è? scusa cioè se io premo sto bottone non succede nulla aspe aspetta guarda guarda, guarda, guarda cosa ho visto c'è una luce lì perché c'è una luce? ma vaffanculo va e cioè robe, robe che neanche la nasano le capirebbe ah, è apparso così da nulla bene logica to, mangia adesso cosa succede? paura posto mera, è sesto o meno? oh 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 sembrava che mi uscisse la lingua invece era una tessina ok eeeh oh, dov'è? qua è rosa ah, qua c'è quella gialla perfetto qui si può uscire? da sto posto di merda no vero la fine è qui la ok questo qua è l'angolino dei cattivi vediamo cosa succede ah, non può andare attraverso la perché si muove da sola quella sedia ma in teoria lo può premere così, no? mi ho fatto passare di fianco ecco l'ho rotto ma se mi diceva prima che non poteva rompere va a capire che cazzo ho letto ma ce la facciamo? premere un bottone di merda eh pip vieni qua dai fai il giro un attimo niente allora a sto punto spacca questo ma ti devo dire spacca il vetro per piacere no niente, non gli va allora ecco, sta pagato tutto spacca il vetro, dai su ci siamo? niente, non ci siamo dobbiamo fare uno che giro gli devo far fare, scusa eh, tu ci vai lì? ok perché perché lo rompe? quando vuole lui ok comunque è un asilo con i bottoni là sopra per aprire le porte perché? cosa è successo adesso? ok, abbiamo un martello distraction at 1 cosa vuol dire? distrazione a 1 diversivo a 1 allora, comunque abbiamo il martello per spaccare le cose qua che ci ha detto prima tu stai fermo lì che non ti vengano strane idee oddio ma queste sono le impronte di quell'uccello di merda lì? è tipo tutto un puzzle qua emergency stop press space to jump ok ok sono salito chiamiamo il drone che non si sa mai eh, mo devo oh cosa sta succedendo? ma soprattutto che Cristo c'è qua giù? no raga non capisco che cazzo sta succedendo? che asilo è che c'ha ste robe? via via scendiamo vediamo la prossima stanza lì cosa vuole questo qual è il mio colore? cos'è sta roba? tac tac cosa vuol dire? volevo saltare? aspetta vabbè pure io non regole ok sono da solo voglio giocare con il buco I am scared ok sembra tipo una filastrocca immagino che sia un qualche indizio per questo what is my call? ah what was my call? eh buona allora questo rosso di sicuro ah ok premendolo ok premendolo cambia colore ok rosso questo poi abbiamo un uccello che è rosa porca troia eh questo qua è verde l'abbiamo visto prima e il resto non li so però il resto non li so allora aspetta sì abbiamo anche la medusa che è arancio io sono furbo e vado a vedere su google la locandina così vedo i colori attenzione attenzione i trick da pro player garten garten off pan pan eccolo qui immagini perché mi vengono fuori che cazzo mi piace fuori qui facciamo steam magari garten off pan pan steam eccolo qua allora carica magari grazie wifi devi farmi fare una bella figura nei video dunque 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 eccoli qua allora ci abbiamo è la ecco eh ci abbiamo il coso che è azzurro questo qua il nano che è azzurro e quell'altra invece è bianca sta buttana qua vero? è bianca lei? ah ok e ci ha dato la tessera arancio perché è partito da solo adesso quello lì? oh 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 no no vaffanculo va porca troia ma perché va via non posso neanche interagirci ma vai via vai via per piacere vai via per piacere cosa raga io mi butto eh vai via vagli addosso drone dio cristo tagliagli il becco oh ho fatto bene t cosa vuol dire t e per essere reincarnato ora che cazzo devo fare c'è un muro invisibile qui non lo posso fare una brutta vaffanculo va qua mi dice che ma cosa devo fare io dai vaffanculo se riesci a capire un cazzo come gli scappo io quello lì allora e qua ci siamo qua mi dice che quello lì devo saltare sopra ma se gli salto sopra tipo finché va goddio ok quella è la rivoluzione è stata abbastanza cliente come jumpscare tu ti vuol dire raga non so che cazzo fare non so come capirla questa come faccio a cliccarti sopra non capisco raga non capisco allora vaffanculo vaffanculo si è acceso adesso vai e clicca ehi guarda sta fermo lì madonna bruttissima all the shift to sprint oh vaffanculo perché non mi faceva passare eh dai reincarniamoci per la trentesima volta allora ok quindi quando smonta smonta lei a quanto parla lei lui non so che cazzo si è un maschio una femmina sto uccello di merda qui guarda guarda aspetta che mi tiro indietro perché è finita male l'ultima volta cazzo ti guardi coglione dai 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 oh drone andati da fare eccolo vai 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 sta fermo lì guai a te oh the shift to sprint ok raga non so cosa ho fatto non so se era previsto che andasse così o se ho fatto una roba epica io ma vabbè lasciamo stare ma che poverino mi sento in colpa adesso eeeh allora eeeh codio cosa ci avevamo noi la stanza rose no non ce l'abbiamo la stanza arancio si vede un cazzo da qua dentro ok ah c'è una nota qua ce la faccio prenderla ma eeeh è un biglietto aereo questo dove ne faccio un biglietto aereo scusi c'è qualcosa così perché nascondono le cose qui che se non ci faccio caso poi ehi chissà mai dove va il drone adesso drone andiamo oh guardalo qua vai premi sono certe cose che veramente mi fanno dire ma che cazzo sto giocando altre che c'è una tv qua si può interagire si può fare qualcosa cosa ho mai fatto cosa ha fatto succedere adesso questo cosa è successo ecco vedi ci sono questi momenti qui che non capisco pure io faccio un muro invisibile non posso passare cosa c'è lì sotto ma dov'è sto asilo ma chi è che manda un figlio in sto asilo di merda cosa c'è lì sotto ci posso mandare il drone che porca donna è questo cos'è questo quello in bersaglio posso no sì ok cos'è sta roba raga non sto capendo ah c'è le cose qua è una luce che cazzo è uno specchio queste qua sono come quelle dei supermercati guarda ce n'è sempre una rotta una eh vabbè andiamo nell'abisso a sto punto se era quello che c'era da fare vabbè pareva che succedeva qualcosa eh cos'è ma cos'era io porca oh sta buon lì ma cos'è un cazzo oh merda vuoi evitare di guardarmi così grazie no il cazzo di Hulk che sembrava madonna cos'è successo in tutto ciò sono morto ho fatto la puttanata no no ah è finito il gioco così senza manco vedere le altre due room raga non lo so non sapevo cosa aspettarmi non sapevo cosa fare questo è stato il gioco il video probabilmente è durato più del solito perché non capivo un cazzo però ci vediamo al prossimo eh